Lidia ha deciso di donare al Pai la sua casa già negli anni 80. Dietro al desiderio di Lidia sostanzialmente c'erano due motivi. Il primo, quello di poter tramandare i posti e la memoria della sua famiglia ai Campatelli. Il secondo motivo era quello di far innamorare quante più persone possibili di San Gimignano, di cui lei era profondamente innamorata. Dieci anni di lavoro che il Pai ha dedicato a questa casa hanno voltato attorno a questi due desideri della nostra donatrice. E infatti si racconta la storia della famiglia Campatelli, se ne fa assaporare i ricordi anche attraverso le foto, gli oggetti di uso quotidiano e tantissimi libri, tantissimi appunto ricordi contenuti in questa casa. Al secondo piano invece c'è questo racconto digitale proiettato sulle pareti delle soffitte che ripercorre mille anni di storia di San Gimignano, dalle origini del mito fino ai giorni nostri. E a noi ci piace pensare che con questo video consegniamo le chiavi di accesso al borgo di San Gimignano, perché invitiamo le persone a prendersi il giusto tempo, ad ascoltare le pietre che parlano, ad immergersi nella storia di San Gimignano e quindi, come voleva Lidia Campatelli, innamorarsi poi della città. Io sono toscana da generazioni e generazioni e sono fortemente legata al mio territorio, alla mia terra. Come tutti i giovani, quando dovevo scegliere l'università, sono scappata da San Gimignano, perché comunque è un piccolo borgo, ma mi sono sempre ripromessa di trovare un lavoro che mi permettesse di unire l'amore per San Gimignano e la passione per l'Arde e soprattutto la relazione con le persone. E credo che la prima volta che ho barcato le porte di Torri e Casa Campatelli ho capito che questo desiderio, questo sogno si era avverato, perché potevo raccontare agli altri la mia terra e quindi sono grata al FAI e soprattutto a Lidia Campatelli che ha permesso appunto di esaudire questo grandissimo sogno. E una delle stanze che sicuramente più mi emoziona tutte le volte che ci entro e tutte le mattine che quando vengo ad aprire appunto il bene è la sala da pranzo, perché c'è questo affaccio meraviglioso sulle colline toscane da questo piccolo terrazzino dove la mattina ci batte il sole e quindi c'è una luce pazzesca e appena apri le persiane la luce entra nella stanza, batte sul cristallo contenuto nelle vetrine della sala da pranzo e c'è questo affaccio meraviglioso su queste colline che sembrano dipinte con un pennello e vedi proprio il piccolo pezzo di orto e poi ci sono gli ulivi e poi c'è la vigna e poi c'è il coltivo, un quadro meraviglioso. Torre e Casa Campatelli è aperta gennaio e febbraio, il sabato e la domenica dalle 10 e 30 alle 17 e 30, da marzo siamo aperti dal giovedì alla domenica sempre ad orario un po' ridotto, da aprile partiamo con l'alta stagione quindi orario continuato tutti i giorni a partire dalle 10 alle 19. Sul nostro sito trovate le informazioni sempre aggiornate sia come raggiungerci, per l'oreale di visita, sia le proposte che ogni tanto pubblichiamo oppure sui nostri social, sia su Facebook che su Instagram pubblichiamo quotidianamente sia curiosità sulla casa ma anche informazioni utili per chi decidesse di venire a trovarci. Credo valga la pena visitare Torre e Casa Campatelli perché si respira un'area intima, familiare e ci si sente subito a casa e accolti. La casa è un luogo in cui si raccontano storie, si tramandano tradizioni ma se ne costruiscono anche di nuove. E Torre e Casa Campatelli è tutto questo è casa, sono ricordi, è famiglia, sono sensazioni un viaggio nel tempo che ti permette veramente di conoscere una Toscana diversa e l'autentica storia di San Gimignano. Grazie a tutti!